Ben ritrovati in diretta sulla radio più outsider d'Italia Questa è un'altra notte pirata e mancano 5 minuti a mezzanotte Non importa se sei ricco, se sei povero, se sei un fottuto ribelle o un boy scout Quale importante non sono i soldi, ma i sogni E finché ci saranno i sogni e le emozioni ci saranno belle canzoni Volevo porvi una domanda È più importante la caduta oppure l'atterraggio Un nostro ascoltatore ci propone una canzone E noi la regaliamo a voi Sperando che possa curarvi tutto il caos che avete dentro È più importante la caduta oppure l'atterraggio A avere paura, avere coraggio A avere la luna, avere un abbraccio Dio io che ho la fortuna di essere un pazzo Tu, tu che sei confusa Cerchi certezze, cerchi carezze Da mani calde, da mani infette Tua magna è sempre una scusa come un'altra Per rimandare qualcosa da fare E sono paranoico, tu sei paranormale Tu sei super lativa, io sono superficiale E noi supereremo insieme tutti i problemi Siamo supereroi, senza superpoteri E non credi che se avessi dei soldi ti porterei Sulla torre Eiffel, poi un giro ad Alley Ma soldi non ne ho e sono quel che sono Se vuoi ti porto a fare un giro in piazza Duomo Il mondo lo farei a piedi con te Che sei il mio colpo di scena Il mio colpo di fulmine Tu sei bella e dannata Sei sia dolce che amara Vorrei dirti tante cose C'ho la voce graffiata Graffi sopra il cuore Perché ci sei passata Graffi sopra la pelle Che sembra disegnata E come sto a me va tutto bene Resto un leone in mezzo a queste iene E come sta a te va tutto bene O forse fingi ma ti riesce bene Perché non si vede E come il mondo là fuori Siamo così uguali Siamo così soli Noi siamo un arcobaleno in bianco e nero Dopo una tempesta fatta di colori E sai che se avessi dei soldi ti porterei Sulla torre Eiffel, poi un giro ad Alley Ma soldi non ne ho e sono quel che sono Se vuoi ti porto a fare un giro in piazza Duomo Il mondo lo farei a piedi con te Che sei il mio colpo di scena Il mio colpo di fulmine Il mondo lo farei a piedi con te Che sei il mio colpo di scena Il mio colpo di fulmine Il mondo lo farei a piedi con te Che Alla fine siamo arrivati alla conclusione Che non c'è una vera risposta alla domanda che ci siamo posti Se pensi che sia più importante l'atterraggio Non ti godi la caduta Se ti godi la caduta L'atterraggio sarà affidato al caso Buonanotte pirati Alla fine 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 Grazie.